Buongiorno, benvenuti a questa Rassegna Stampa. Devo dirvi subito una cosa, perché ieri sera sono andato a Torino all'inaugurazione, i 100 anni, la celebrazione delle penne Aurora, dovrei avercela da qualche parte una, e ho incontrato alcune persone che avevano i figli di 14 anni, un paio di persone che avevano i figli di 14 anni che guardano questa zuppa. Un grande, grandissimo ringraziamento ai ragazzini che vedono questa zuppa, perché mi riempie veramente il cuore di gioia. Finita questa piccola patetica digressione personale, andiamo su quello che c'è sui giornali, come sempre con la zuppa. La questione fondamentale riguarda Lega e Movimento 5 Stelle, perché ieri si sono rivisti Di Maio e Salvini dopo mesi di campagne elettorali in cui non si parlavano, e il titolo forse oggi più azzeccato è quello del Corriere della Sera, in cui ci dice Ci riprovano, provano a trovare un accordo di Maio e Salvini, e la base dell'accordo dovrebbe essere il fatto che fanno secco Toninelli, il carabiniere, quello che sta sempre così, ma che non ne combina una giusta, oltre a fermare tutte le infrastrutture d'Italia, ma non è l'unico e tra poco lo vedremo, e l'accordo su una strategia comune per la riduzione delle tasse, se così fosse benvenga, per carità. Insomma, ci siamo fatti secchi un ministro che evidentemente non ha funzionato, e soprattutto sulla questione del fisco eccessivo forse si fa un passo avanti. Il Cavaliere, nota da Alberto Signore sul giornale, avrebbe visto Salvini, una sorta di massaggio, attenzione che quella roba lì del centrodestra è sempre lì. Perché dicevo che il problema qua non è tanto questo governo in Toninelli o nel singolo ministro? Perché il Sole 24 Ore, unico giornale che la mette in prima pagina, ci dice che il Cipe, che non è soltanto Toninelli, ma mi sembra che sia Palazzo Chigi, cioè dove dovrebbe governare anche Giorgetti, ministro che tutti considerano molto credibile della Lega, blocca, dopo dieci anni, quindici anni, il progetto della Total su Tempa Rossa, quella che ebbe anche qualche problema, vi ricorderete, l'ex ministro Guidi. Tempa Rossa non è una stupidaggine, si tratta del più importante giacimento petrolifero quasi d'Europa. E dov'è? In Italia, in Basilicata. Probabilmente, certamente modificherà il territorio, tra l'altro già in parte costruito, ma la cosa straordinaria è che il Cipe ieri ha deciso che non vi è un interesse pubblico nell'estrarre il petrolio. Io dico, questo è il paese che importa, è la bolletta energetica più cara dell'Europa occidentale, e noi consideriamo che i nostri giacimenti di petrolio non sono, non è interessante svilupparli. Ovviamente, nel frattempo, ieri Saipen vinceva un contratto da 5 miliardi e 3 per svilupparli in Mozambico, ma se sono in Basilicata, no. Paghiamo qualcun altro, anche con imprese nostre, e questo va bene perché li prendano da altre parti. Io la trovo una cosa incredibile, ovviamente i giornali di questa cosa diranno che è schifo il petrolio. Sì, andiamo a prendere da qualcun altro, va benissimo. L'altro pezzo divertente di politica oggi, ve lo segnalo, è di Federico Rampini, sulla Repubblica, è un pezzo che dovrebbero leggere i suoi colleghi commentatori della sinistra, Ghi Scalfari, Massimo Giannini, tra poco ne parleremo. Perché? Cosa dice Rampini? Che in Danimarca ha vinto una signora di 41 anni, la più giovane premier danese, che è di sinistra, ma perché ha vinto? Non per quelle cagate, trovo io, insopportabili di politica sociale di sinistra nordica, trattuie, aumentare tasse, i più ricchi, tutte robe che piacciono molto alla sinistra, diciamo, alla pace. Ma la cosa incredibile è che questa ha vinto, sapete perché? Perché non vuole immigrazione, la vuole super controllata, è quella che in Italia i colleghi di Rampini definirebbero una xenofoba, che sta a sinistra e che vince le elezioni. Meglio forse il caso svedese, in cui invece a vincere le elezioni è stato un partito di destra, che diceva cose di politica economica di destra e cose sull'immigrazione identiche alla signora 41enne danese che ha vinto a sinistra. Insomma, avete capito il concetto? La sinistra non è tutta rintronata, non è tutta, e in questo ha sbagliato Renzi, Bartolo, ma non perché il medico è un santuomo, ma non è soltanto quella roba là. Quando la sinistra zecca lo spirito dei tempi, forse qualche voto lo può prendere. Meglio che non lo faccia, dico io. Sul CSM c'è gran casino, ma la bolla di ipocrisia sul CSM è quando io oggi mi leggo il vicepresidente del CSM, che si chiama Ermini, che dice che non si pianificano le strategie fuori dal Consiglio e con persone che non ne fanno parte. La cosa è molto giusta e sacrosanta, ma c'è un piccolo dettaglio. Ermini, che è una bravissima persona, non è uno che è capitato là per caso, non è uno che ha fatto un concorso per entrare in magistratura, ma è un esponente importante del Partito Democratico. Allora, il punto è che non si devono fare fuori dal Consiglio, perché la politica si porta all'interno del Consiglio. E qualcuno di voi pensa che Ermini, vicepresidente del CSM, con un grande ruolo della politica, votato dalla politica, uomo del PD, bene, Ermini non abbia nessun rapporto più con la politica che l'ha nominato là dentro. Il fatto che ci sia un terzo dei giudici, dei membri del CSM, che non siano togati, non toglie il fatto che ormai i giudici non togati del CSM siano diretta espressione che dal Parlamento arrivano al CSM, il che può anche essere giusto politicamente. Ma quando quello mi dice che non ci devono essere contatti esterni, quando lui è il simbolo, anche se istituzionalizzato, di un contatto esterno, è favoloso. Il PD in balia di Lotti, in balia di Lotti, dice il fatto quotidiano, perché ieri Zingaretti ha convocato i suoi uomini a Lotti, dicendo ma che stai a fare con il CSM, doveva convocare forse anche Ferri, che era il consigliere del CSM ed ex e suo deputato sempre del PD. Insomma, che la sinistra controlli i giudici, o una parte dei giudici, e si faccia controllare da un certo punto la sinistra, è fuori da dubbio. Francoise dice ci vuole Nordio, Nordio oggi fa un'intervista molto bella al giornale, che dice finalmente i giudici si renderanno consapevoli di che cosa vuol dire un processo mediatico, e poi il Nordio, che invece sul messaggero dove scrive, ci spiega che secondo lui dovrebbero essere sorteggiati. Almeno Nordio non cade in quella ipocrisia, perché alcuni oggi dicono ci si vada per merito. E beh, fino ad oggi che cosa ci avete raccontato? Che sono andati per merito? Ognuno attribuisce il merito secondo canoni molto personali. Ma la cosa più divertente è che il merito, e il fatto che tutti parlino di merito, si vede in questa vicenda. Il magistrato che sarebbe stato nominato sia dalla commissione che si occupa degli incarichi del CSM, sia dal plenum, cioè dall'assemblea del CSM, il magistrato che è stato nominato a guidare la procura di Roma al posto del mitizzato pignatone, ecco, questo magistrato viene da Firenze, si chiama Viola, ed è stato votato da Davigo. E oggi Travaglio dice che è il miglior magistrato che ci sia, tant'è che si arrabbia col presidente della Repubblica Mattarella che vorrebbe rifare la corsa per il magistrato. Ma c'è un piccolo dettaglio, che questo è lo stesso candidato di Lotti, è lo stesso candidato di Palamara, è lo stesso candidato di Ferri, è lo stesso candidato di quell'orrendo CSM che vogliamo cambiare per il merito, e guarda caso, secondo tutti, il procuratore che è stato scelto da questi delinquenti è quello che se lo merita di più. Boh, ci potrà essere anche l'eterogenesi dei fini. Però è imbarazzante come dietro al CSM c'è solo una cosa, potere, potere e potere. E ognuno lo vede a modo suo. Draghi ieri fa tanti discorsi, parla anche del debito pubblico italiano dicendo una cosa ragionevole, cioè che bisogna rientrare in maniera graduale. L'unico giornale che secondo me titola giustamente sulla parte più interessante di Draghi, MF, che dice che Draghi ieri ha rimesso in piedi lo scudo spaziale europeo. Più liquidità, abbassare i tassi di interesse, insomma dare ancora una mano con la politica monetaria all'Europa. Quando ci vedremo in una bolla di inflazione, beh, questo forse potrà avvenire secondo i monetaristi, ancora non è avvenuto, ma è molto interessante più che altro il titolo dell'Economist di oggi, che è il giornale settimanale britannico, ma direi globale, che oggi fa una copertina, esce tutti i venerdì, che vede un dirigibile, ed è la tesi dell'Economist, che lo chiama le armi di distruzione di massa, e quali sarebbero? Tariffe, i ban nei confronti delle società di tecnologia, i financial isolation e le sanzioni. Tutto giusto, è l'anima liberale, io adoro, free market e libero scambista, diciamo così, dell'Economist. Ma non mi ricordo questa polemica dell'Economist antitrampiana, chiaramente, giustamente su questo antitrampiana, quando invece quei ban, quei dazzi, sono state imposte, e soprattutto le sanzioni, alla Russia. Insomma, dobbiamo un po' metterci d'accordo sull'Economist. Quando inizi con le sanzioni, poi non è che puoi dire che alcune sì, altre no, o come vi sembra. Detto questo, l'altra questione di partita è la chiusura della fusione, ne abbiamo parlato ieri, tra Fiat-Terrenault. L'Emer, il Ministro delle Finanze, parla un po' con tutti, dice che il Cannes non ha avuto pazienza, il Ministro delle Finanze è francese. Il titolo che vi voglio maciosce sul giornale dice che Macron resta l'ultimo grande sovranista in Europa, e quindi paradossalmente il finto europeista Macron è l'europeista meno convinto perché ha cercato di difendere la sua sovranità, è quella di Renault, ma il punto più divertente è Giannini, oggi, che dice che il governo italiano non è intervenuto. Ma perché doveva intervenire? Tutti i fenomeni a dire che devono intervenire, ma veramente vogliamo tornare allo Stato che interviene nelle vicende della Fiat, allo Stato che è azionista della Fiat? Fino a prova contraria, la Fiat ha una sede in Olanda, una sede a Londra, ha qualche fabbrica importante in Italia, e lì sì, il governo su quelle fabbriche può magari dire qualche cosa, ma dal punto di vista della corporate governance, scusatemi, che cazzo c'entra? I francesi hanno il governo francese al 15% della Renault, lo Stato italiano non ha più un euro della Fiat, anzi, la Fiat non ha fatto più il contratto con la Confindustria, la Fiat non è più un interlocutore italiano, ce ne siamo lamentati tante volte di questa cosa. Alessandra, basta soldi statali alla Fiat, è perfettamente giusto, ma tu non puoi Giannini chiedere che il governo non ne parli, e poi dopo se non ne parla vuol dire che tu lo vuoi azionista della Fiat, e se sei azionista della Fiat vogliamo veramente una Fiat ancora che si becca i soldi pubblici? Ma io direi che le cose vanno così. Insomma, in questa vicenda mi sembra che ci siano tante storie, c'è la storia dei francesi che vogliono tenersi Renault, ma c'è anche la storia di un signore come Elcan, che aveva affiutato un affare, ha cercato di farlo, e industrialmente quei signori volevano prendere più tempo per un semplice motivo, che loro l'affare più che con gli italiani, o su Adison italiani, lo vogliono continuare a fare con i giapponesi della Nissan, con cosa che non è emessa, secondo me, in modo chiaro sui giornali. Paolo Isotta, come sempre fantastico, ex-critico musicale della Corriere della Sera, oggi sfotte Mattarella perché dice la grande ufficiale, avete reso già il fatto grande ufficiale, avete letto quel libro di Campanile in cui prendeva per il culo i titoli, diciamo, repubblicani? Io quando sento un titolo repubblicano mi viene da dire, granduf, commenta, ma chi se ne frega? Meglio principe, meglio duca, meglio marchese, ma grande ufficiale quasi ti devi vergognare a dirlo. Però, insomma, lasciamo perdere questa parentesi, diciamo, snobbistica sui grandi ufficiali. Ma Isotta si lamenta da principe napoletano qual è del fatto che sia stata data questa onorifidenza di grande ufficiale a una signora che si chiama Rosanna Purchia che, secondo lui, ha distrutto il teatro San Carlo. Pezzo, come sempre, gustosissimo. Hanno scarcerato due persone, è l'altro grande tema, hanno scarcerato il violento nigeriano che esce dal carcere in meno il portantino e il tempo, invece, si ricorda di come, invece, hanno scarcerato, non hanno scarcerato, hanno portato un albanese, vi ricordate, 16 anni, ferito, perché cercava di rapinare uno, quello ha sparato, quello l'hanno ferito, i complici l'hanno riportato all'ospedale, abbandonato, ferito, passano un mese e il ferito albanese va a fare un altro furto. Io la trovo una grande cosa fenomenale sull'Italia che non fa rispettare le leggi, ma soprattutto sulla certezza del diritto. Due ultime notizie economiche. Le cartelle settoriali fino a 1000 euro tra il 2000 e il 2010 sono state cancellate autonomamente dallo Stato. riguardano 12 milioni di contribuenti, 50% sono cartelle IMSS, quindi noi dobbiamo probabilmente pagarle alcune giuste e altre sbagliate. Oggi il messaggero ci dice, sapete quanto è stato questo sconto fiscale? 32 miliardi, alla faccia che i condoni non si fanno più bene per quanto mi riguarda. Soltanto chiamiamolo con il loro termine. Condono fiscale per la gente meno ambiente. Sono favolose queste operazioni, secondo me, di macchiage semantico. Ultima cosa, ve l'ho già detta prima di Tempa Rossa su Sole 24 Ore, per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani con la zuppa. Vado questa sera a Pordenone a fare un incontro con Biloslavo, stamattina ho avuto una bellissima conversazione con Parag Canna, secolo asiatico. Il suo libro l'ho recensito sul mio sito, lo trovate, ed è molto interessante capire quella prospettiva del mondo per cui noi europei siamo la provincia lontana dell'impero. Ciao!